Buonasera da mamma Teresa stasera vi faccio vedere come si fanno i panini con la milza questo è il polmone che lo devo pulire e questa è la milza appena è bella pulita si pulisce poi vi faccio vedere quando è cotta come si prepara? Allora si mette qua in acqua fredda una e due ora si sciacqua ora si sciacqua questa è la prima asciacquata andiamo e risciacquiamo la pasta e 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 l'acqua e la pasta e la pasta e la pasta la metto sul fuoco e ci accendo senza sale e aspetto che si cuoce la pasta la pasta è ben cotta poi vediamo ciao qua spengo è passata un'ora la pasta e la pasta e la pasta si raffredda poi la mettiamo nel frigorifero e domani la taglio e faccio i panini ora è fredda e si può levare la pellicina sarebbe questa questa la pelle in più e cominciamo a tagliare fine poi poso questa e prendo un po' di pollone e si taglia sempre fine ho finito di tagliare e nel panino ci va più polmone e un po' di milza ora andiamo a cucinarla per cucinarla serve lo strutto apro metto lo strutto nella padella poi ci accendo e non deve essere e non deve essere fritta deve essere bollita ora ci accendo si scioglie lo strutto prima prima si cucina il polmone e lo metto qua poi quando è cotto il polmone e poi all'ultimo metto la pizza e ora questo cotto il polmone ora gli metto la pizza ok pronta e poi poi mettiamo il polmone e il cimento e il panino è pronto aggiungo un po' di sale e se ci può aggiungere formaggio chi lo vuole chi lo preferisce io no mmm buono buonissimo buono 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 più buono buono buono